Sargent End 1001, lei è stata inviata in una missione della polizia di Altis. Lei è stata inviata in questa missione perché i ribelli di Altis si pensano che stiano aiutando i nemici. Sì signore, quindi come dovremmo combattere? Lei e i suoi uomini dovranno combattere prontalmente. In un modo o nell'altro arriverà un elicottero di rinforzo dove vi aiuterà. Lei ha la missione di attaccare i loro quartieri generale che si trovano in questi tre edifici. Sono segnati nella mappa con una croce. Quindi potremmo partire? Ovviamente adesso. Ok signore, partiamo. Salve a tutti ragazzi, sono End 1001. Oggi ci troviamo in una missione veramente importante. Sto partecipando qui assieme alla SWAT di Altis. Si pensa che qui ci sono i ribelli di Altis a partecipare con i nemici. Quindi, beh, dobbiamo eliminarli. Questo è l'obiettivo. Beh, adesso dobbiamo scendere. Quindi aiutiamo la SWAT. Beh, che sparatorie assurde. Ecco qua. Cominciamo a eliminare i nemici. Allora, gli edifici che dobbiamo attaccare sono questi tre. Quello, quell'altro e questo qua. Sono segnati anche nella mappa, ma dopo controlliamo la mappa. Per ora siamo in una battaglia veramente importante. Non è che sta arrivando qua l'elicottero ad aiutarci. Vediamo. Proviamo a passare per di qua. Vediamo cosa c'è. Ah, ecco qua. Possiamo passare tramite questo cancello. Vediamo se c'è qualcuno. Sì, c'è qualcuno. Muori. Ok, l'ho ucciso. Lì ci sono i nostri alleati. Ok, chi è quello? Nemico, uccidiamolo. Ecco qua. Perfetto, sono un cecchino. Sono uscito ad ammazzarlo. Ah, lì ci sono i miei alleati. Quindi possiamo anche avanzare. Ma stanno sparando dappertutto questi nemici. Cerchiamo di avanzare noi. Oh, ce n'è uno. Eccolo là. No. Vieni. Colpo in testa. Ci sono riuscito ad ammazzarlo. Ok, possiamo avanzare. Qui c'è l'elicottero. I nostri alleati sono qui. Ucciso. Posso avanzare. Ricarico. Quindi andiamo di qua. Ok. C'è qualcuno qua? Non c'è nessuno. Possiamo andare. Ok, vediamo qua. Vediamo se sono qua sopra. Qua c'è un morto. Andiamo, stiamo attenti. Questo qua dovrebbe essere l'ultimo piano. Sì. Andiamo. Perfetto. 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 Sono morti qua. No, non li vedo. Guardate che cosa tenevano. Armi di contrabbando e munizioni. Dobbiamo raggiungere l'ultimo edificio. E dobbiamo assicurare che non ci saranno più nemici. Ok. Usciamo. No, 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 no. Ucciso. Stiamo sparando. Vabbè, ci ha pensato il mio alleato, meno male. Passiamo per di qua. Ok, dobbiamo raggiungere solamente l'ultimo edificio. È quello là. Ma visto che ci siamo, facciamo un ultimo controllo. È meglio assicurarsi che ne maschino manco uno. Vediamo. Eccolo qua. Aia, mi ha colpito. Sto ancora bene. Non sono morto. Oh, meno male. Ma continuiamo qui sopra. Vediamo se ce n'è qualcun altro. Meglio tenere la mira. Ok, questo qua è l'ultimo piano, sì. Vediamo. Ah, ce n'è un altro. Ecco qua, l'ho ucciso. L'ho ucciso il suo amico. Pensava di scappare. Ma alla fine sono riuscito ad ammazzarlo. Ok, manca solamente l'ultimo edificio. Vediamo. Facciamo l'ultimo controllo. Dai che ci riusciamo e completiamo la nostra missione. Vediamo se c'è qualcuno qui. Aiaiaia, no, 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 no. Chi è? Qua ce n'è uno. Oh, meno male. Mi sta pronto a uccidermi. Nefrattenevo troviamo questa stanza. Ok. Non è tutto sicuro. Ok, questo qua è l'ultimo edificio. Siamo qua davanti. Stiamo attenti. Ok, sto entrando. Controlliamo se ci sono nemici nelle scale. Controlliamo se c'è qualcuno. Oh, ok, perfetto. Tutti i piani sono sgomberati. E quindi hanno fatto i ribelli una brutta fine. Posso anche contattare il capo della polizia. Signore, abbiamo liberato tutti gli edifici. Come procede il controllo della zona? Tutto a posto. E lei ha controllato tutti i piani? Sì, ho controllato tutto. Tenevano armi di contrabbando e munizioni. Che sicuramente volevano dare ai nemici. Dicevuto. Manderò al tenente la notizia che noi siamo riusciti a gomberare gli edifici. Passo e chiudo. Ok, ragazzi, siamo riusciti a sgomberare tutti questi edifici. È stata una lunga battaglia, ma in fondo ci siamo riusciti. Ok, quindi che cosa posso dire? Andrò nella base e forse dovrò fare un'altra missione. La vita della militare è un po' dura, ma in fondo. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace e iscrivetevi attivando la campanella. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.